Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi, soluzione l'ipnosi di CS vera e professionale che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi paura, l'ipnosi fuffa, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi conformista e commerciale anche se quest'ultima possiamo dire che è buona, ottima detto ciò, premesso tutto ciò, oggi parleremo di tempo quanto tempo ho sprecato da quando ero, quando ero studente lavoratore senza una lida in tasca vicino Milano, in quel di Modena perché avevo paura, diffidavo, non credevo, mi impaurivo dell'ipnosi che vedevo in tv soprattutto giù a cascasella, l'ipnosi da film, l'ipnosi fuffa, l'ipnosi da spettacolo e avevo paura e procrastinavo, mi allontanavo perché? Perché il tempo ragazzi? Perché gli antichi latini dicevano tempus fugit, il tempo fugge la cosa più preziosa che abbiamo è il tempo, il tempo che passa e non torna più i soldi passano, si spendono, ma prima o poi tornano, se rifletti ma il tempo non torna più ora, dal 2008 ad oggi, il sottoscritto è un ipnotista professionale di ipnosi di CS vera e professionale, ho coniato questo termine che sta per dottor Claudio Saracino, il sottoscritto perché è veramente unico al mondo, sperimentato H24 su di me del 2008 ad oggi cioè più di 12 anni e anche in questo momento io sono ipnotizzato, non sembra ho risolto tantissimi problemi personali sia dal punto di vista fisico, mentale e anche esistenziale e a centinaia e centinaia di persone nel mondo, ripeto, nel mondo e prima non credevo, prima avevo paura perché pensavo stregonerie, sette sataniche, diavolerie oppure ci sono effetti collaterali poi dopo aggiusto una cosa ne rovino un'altra ecco le lucubrazioni, i pensieri negativi i dubbi che circolavano quotidianamente nella mia mente eppure imprecavo contro il destino quando ero uno studente lavoratore senza una letra in tasca pieno di stress, pieno di depressione, pieno di ansie pieno di rabbia, pieno di odio chi più ne ha più ne mette perché non avevo un soldo in tasca ho fatto mille lavori umili mi sono laureato col massimo dei voti mi sono fatto un mazzo che non oso neanche immaginare di nuovo o descrivere per cui se avessi conosciuto all'epoca l'ipnosi di CS vera e professionale la mia vita sarebbe cambiata a livello esponenziale non mi sarei trovato oggi o possiamo dire a 40 anni perché alla dottoressa Rina Brunini nel 2008 ho fatto questa domanda mentre mi ipnotizzavo ho detto ma perché io a 40 anni non è tardi approcciarmi all'ipnosi vera e professionale di Los Angeles Beverly Hills che è l'ipnosi ipotesi della dottoressa Rina Brunini del grandissimo professor dottor Michelangelo Garai e lei ha risposto che il tempo non esiste per la mente ed è vero ho messo solo 12 anni per 10 anni possiamo dire per filmarmi per raccontarti le mie esperienze a te e alla gente di buona volontà e ti esorto in questo video a non aspettare come ho fatto io perché quando poi il sottoscritto ha letto da fonti accreditate non da strisce alla notizia da fonti certe che l'ipnosi vera e professionale è riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 come medicina alternativa dalla Chiesa con Papa Pio IX e che lo stesso Papa Giovanni Paolo II Papa Voitila il Papa Polacco si autoipnotizzava per imparare lingue straniere bene lì ho detto a tutti i santi crismi e che comunque in più di 2000 libri letti in più di centinaia e centinaia per non dire migliaia di fonti a parte i miei menti i miei maestri i principi la dottoressa Rina I e il professore Garai su casi concreti una pila una montagna di casi studio testimonianze eccetera che non esiste nessun effetto collaterale perché se esistessero rifletti anche la tv la radio la società gli amici parenti possono influire negativamente sulla nostra psiche e influiscono se ci rifletti però l'ipnosi vera e professionale se sai cosa dire se sai cosa fare non fa altro che del bene naturalmente non tutti anche nel mondo dell'ipnosi sono degli artisti dell'ipnosi la maggior parte sono delle persone che conoscono l'ipnosi ma che non sanno cosa dire in casi specifici la suggestione il principe di quest'arte di questa scienza quando poi seppi ho letto e ho fatto e ho saputo che non esiste nessun effetto collaterale nessun danno eccetera eccetera inoltre ho testato questo metodo di ICS di ipnosi di ICS vera e professionale che elimina anche lo strascico di effetti secondari di qualche guru dell'ipnosi conformista e commerciale perché l'ipnosi vera e professionale non ha DCS non ha nulla a che vedere con l'ipnosi conformista e commerciale perché non ha nessun effetto collaterale perché le suggestioni le parole sono proprio create ad hoc per eliminare qualsiasi dubbio qualsiasi problema inoltre e inoltre ascoltami si può utilizzare anche su chi non vuole il tuo aiuto quanta gente sta a letto davanti alla tv che non vuole il tuo aiuto è logico che bisogna seguire l'istruzione alla lettera facilissimi nell'uso facilissimi nell'esecuzione ok per cui per concludere non aspettare tutti quegli anni che ho aspettato io prima di decidermi non aspettare tuffati 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 tante volte la mancanza di perfezionismo la mancanza di certezze perché siamo destinati ad essere di passaggio su questa terra non esiste nessuna disciplina e ti consente di rimanere eterno almeno su questa terra in questo corpo magari in altre vite future ci sarà la possibilità ma in questo corpo in questa vita la tua esperienza finisce qui un giorno prima o poi per cui aumenta migliora la qualità della tua vita con l'ipnosi di CS vera e professionale senza se senza ma sta parlando un mentor una persona che da sola ha iniziato autodidatta ipnotizzando tutto di più facendovi anche per alcune volte prendere in giro da qualche parente amico eccetera ma non me ne fregava perché quando veramente credi in qualcosa tu cammini sulle acque nel 2008 quando mio padre fu colpito da un ictus ho conosciuto la dottoressa nina brunini la quale affrontava casi di paralisi ictus epilessia autismo eccetera eccetera la mia vita è cambiata radicalmente perché fino a quel momento avevo risolto casi di insonnia depressione panico ansia con le tecniche miscelandole dell'ipnosi conformista commerciale poi quando ho conosciuto questo metodo di los angeles baby hills veramente l'arte delle arti la mamma delle mamme le affonte delle fonti lì ho iniziato ad ipnotizzarmi a h24 anche adesso sono ipnotizzato anche se non sembra per cui tu sei scaricato degli audio mp3 di cs perché non vuoi andare in giro presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona ti prego segui la lettera e le istruzioni non guardare l'orologio il calendario il tempo non guardarlo tuffati tanto il mio metodo di cs non ti ruba tempo neanche un secondo ok e assorbi senza pensarci dimenticando le mie parole quello che ti serve per risolvere il tuo problema perché il tuo subcosciente il tuo pilota automatico ha tutto di più per risolvere il tuo problema perché cause e soluzioni albergano qua dentro nella tua cucuzza ok senza ma e senza se e l'ipnosi di cs vera e professionale non si usa soltanto ad eliminare problemi ma anche a potenziare capacità che sono limitate o eliminate o cancellate o sepolte nel buio del buio dalle nuvolette nere che girano attorno a te le nuvolette nere l'ipnosi di cs vera e professionale le elimina anche da sola e da sola anche se il tuo caro la tua cara non vogliono il tuo aiuto per vari motivi non vogliono un aiuto online non vogliono un aiuto dal vivo non vogliono nessun tipo di aiuto bene questa gente non va lasciata al proprio destino fai come hanno fatto tante mamme che con perseveranza hanno continuato e hanno iniziato a vedere un rilassamento un cambio di vedute da parte del proprio figlio della propria figlia la quale a un certo punto ha chiesto l'aiuto e lì è iniziato il percorso il cambiamento la rivoluzione interiore che ha cambiato e migliorato la vita delle persone fammi tutte le domande del caso risponderò gratis visite il mio sito internet www.tipronologiassociati.com visite la mia fanpage su facebook ipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube benessori ipnosi soluzioni di cs del dottor Claudio Saracino e facere i condividi con amici e parenti perché può essere quel quid o quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche su instagram e grazie a tutti